E' l'assessore ai lavori pubblici e mobilità Roberto Caverni il numero uno della lista UDC a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Cenni, primo cittadino uscente. Stamani la presentazione del gruppo composto da 13 donne e 9 uomini che vede la presenza anche di Filippo Boretti, architetto, presidente della fondazione Casa Pia De Cepi, e Giacomo Sbolgi, vicepresidente della circoscrizione centro. Per il resto si tratta di volti nuovi, soprattutto liberi professionisti e imprenditori. Per il capolista Caverni è stata l'occasione giusta per fare una sorta di bilancio di questi 5 anni trascorsi in comune con ben 20 deleghe da portare avanti. Ecco quindi serviti 250 km di strade asfaltate, la pedonalizzazione di piazza delle carceri, il completamento del ristauro al pretorio, le tante attività che hanno deciso di aprire in centro storico grazie a suolo pubblico meno caro, incentivi fiscali, regolamenti meno rigidi. Un lungo elenco che ha come comune denominatore il sogno realizzato di entrare in comune, mettere le mani nei cassetti per mettere a posto tutto ciò che non va, un'attività che Caverni ha definito complessa e che ha dato grande risparmio. Partiamo non da zero come siamo partiti 5 anni fa perché ormai noi abbiamo una conoscenza della macchina ormai perfetta e che oggi grazie proprio a questa riorganizzazione riesce a dare dei risultati ottimi dal punto di vista dei lavori pubblici, dal punto di vista delle manutenzioni e dei risparmi. Noi la spending review l'abbiamo iniziata prima ancora se cominciassero a parlare, noi nel 2009 abbiamo cominciato a tagliare sprechi per 1.750.000 euro sulle manutenzioni e abbiamo un indice di gradimento molto più alto. Tutto grazie alla devozione con la quale ci siamo dedicati e mi sono dedicato anch'io e l'organizzazione che è risultata vincente da questo punto di vista.